Ben trovati da Arpal con le previsioni del tempo. Una breve rimonta anticiclonica favorisce tempo in prevalenza stabile e soleggiato fino a domani venerdì. Sabato avvicinamento di una saccatura atlantica con accentuazione dell'instabilità da prima nell'interno. Tra la sera e la notte rovesci e temporali possibili anche lungo la costa. Domenica variabile con possibilità di rovesci e temporali sparsi. Il dettaglio oggi giovedì 1 luglio sereno poco nuvoloso con addensamenti sui rilievi interni dove saranno possibili i brevi rovesci o temporali. Tra il tardo pomeriggio e la sera transito di velature da ovest più consistenti sul centro ponente. Venti deboli al regime di brezza prevalente lungo la costa. Rinforzi moderati da sud sui rilievi a ponente e sull'estremo levante. Mare mosso però onda formata da sud ovest localmente molto mosso levante. Il nuovo aumento tra la sera e la notte. Temperature massime stazionari e lungo la costa tra 25 e 27 gradi nelle zone interne tra 26 e 28 gradi. Domani venerdì 2 luglio sereno poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani sui rilievi soprattutto di levante dove non si escludono brevi isolati rovesci o temporali. Venti deboli a prevalente regime di brezza con rinforzi da sud ovest e nel pomeriggio a ponente da sud sui rilievi. Mare a levante tra mosso e molto mosso al mattino per onda in scaduta da sud ovest. Mosso a ponente nel pomeriggio passaggio a mosso a levante e poco mosso a ponente. Temperature minime in aumento lungo la costa tra 19 e 21 gradi nelle zone interne tra 13 e 15 gradi. Massime in aumento lungo la costa tra 26 e 28 gradi nelle zone interne intorno a 27 e 28 gradi. Dopodomani sabato 3 luglio sereno poco nuvoloso al mattino. Nubi in aumento sui rilievi interni a partire da ponente. Nel pomeriggio nuvolosità irregolare lungo la costa più compatta sulla zona centrale nuvoloso nell'interno con possibilità di brevi rovesci o temporali che tra la sera e la notte potranno sconfinare sui settori costieri di centro ponente. Venti deboli a prevalente regime di brezza rinforzi da sud sui rilievi tra il pomeriggio e la sera. Mare al mattino residuo moto ondoso da sud ovest a Levante con mare mosso poco mosso altrove. Nel pomeriggio mari poco mossi. Temperature minime stazionarie lungo la costa tra 20 e 22 gradi nelle zone interne tra 14 e 16 gradi. Massime in aumento lungo la costa tra 26 e 29 gradi nelle zone interne tra 27 e 29 gradi. È tutto, seguite gli aggiornamenti su arpal.liguria.it, sulla pagina facebook di Arpal e sul profilo instagram dell'agenzia. A risentirci! Grazie! 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 Grazie!